Noi i regali ce li facciamo prima noi e poi gli allenatori hanno il problema di fargli essere dei regali preziosi perché Chisna è stato considerato uno dei migliori talenti nati dopo il 1993. Noi speriamo di portare in porta la trattativa, con la Lazio abbiamo un buon rapporto, con l'Otito personalmente. Bisognerà parlare molto con Mino Raio, voi sapete che tipo di manager è. Speriamo che non ci crei troppi, non dico problemi, ma difficoltà. Lei lo ha sentito? Sì, sì, io ho parlato. Lo incontreremo a breve perché era fuori Italia e adesso lo incontreremo a tra poco. Per vedere l'asperimento a San Siro, in 2018, meglio o meglio? Abbiamo aspettato 90 anni, non è un po' di più, non è un grande problema, un mese o due, no?